La professore Manga ha fatto il chimico per una vita. Ho fatto il chimico per una vita e ho cominciato praticamente a fare il chimico quando avevo 15 anni e mezzo, che mi regalarono, perché io lo chiesi, il piccolo chimico. E fu l'istante in cui questo grande scatolone rosso si aprì e c'erano questi profumi di queste materie che alla gente gli fa schifo sentire l'odore, e invece a me piaceva. E feci saltare un paio di cose in casa subito, due o tre incendietti, così, però già da allora ho capito che avrei dovuto fare il chimico. Poi da chimico magari sono passato all'alchimista un po', però insomma... Ho fatto i geometri, ma la scuola dei geometri io volevo andare a fare il chimico, il perito. Il mio babbo mi disse, no, alla Spezia, io abitavo a Spezia, non c'è l'istituto, bisogna andare a massa, massa non è un bel ambiente, allora dico, va bene, allora faccio i geometri. Mio babbo era geometra, mio nonno era geometra, quindi poi sarai e diventerai ingegnere. Dico, guarda, faccio i geometri, ma quando ho finito i cinque anni di geometri mi scrivo a chimica. E così ho fatto, dopo che ho smesso la scuola media superiore, sono andato il giorno dopo da mio babbo, dico, ora vado a Pisa e mi scrivo a chimica. Mio babbo è rimasto male perché pensava che me lo fosse dimenticato, no, no, io no. Come mai lei ha sempre avuto questo interesse nel capire come interagiscono le molecole, come avvengono le reazioni? Come è costruito l'universo, perché a me piaceva costruire l'universo, mi piaceva capire come era fatta la materia, come erano fatti gli atomi, cos'è un atomo? Non mi sono mai accontentato di quello che c'è scritto sul libro. Poi i libri, oggi si vede benissimo, più belli sono, più colorati sono, più privi di contenuti sono. Invece una volta c'erano poche figure, ma c'era tanto scritto e c'era la difficoltà di comprendere. Io volevo capire come era fatto l'universo, perché c'erano i pianeti. Quanto è profondo l'universo? Boh, chi lo sa? Bisognava, insomma, i giornalisti scientifici riempono di parole delle cose. A me le parole non mi bastavano. Io volevo capire a colpi di pi greco come era fatto l'universo, quindi mi toccava studiare. Adesso arriviamo al pi greco e come, secondo i suoi studi, una serie di valori, di numeri che sono, diciamo, storicamente conosciuti, si incastrano tutti quanti insieme in quello che lei chiamava ultimamente, l'ha chiamato, l'epidion a 432 Hz. Sì. La mia idea, che è un'idea che è maturata nel tempo, non è che una mattina mi sono svegliato e ho avuto un colpo di genio, no, piano piano ho cercato di capire come era fatto l'universo. E a un certo punto scopro, o credo di scoprire, che sostanzialmente l'universo è molto più semplice di quanto uno non si possa immaginare. Qui magari ci arriviamo dopo. Vorrei fare un attimo una cosa progressiva. Intanto io sono curiosissimo di capire come lei è passato da essere un professore di chimica al responsabile del comitato scientifico del Centro di Ufologia Italiana. Sì, in realtà la cosa è inversa, cioè io sono diventato docente di chimica mentre ero iscritto al Centro Ufologico Nazionale, che era il più grosso, sicuramente il più importante organismo, che studiava gli UFO, gli oggetti volanti non identificati. Lì mi iscrivo a questo centro perché io volevo capire come era fatto l'universo e una delle vie poteva essere chiediamolo direttamente agli alieni. Gli alieni ci sono, ci saranno da qualche parte, l'universo è così grande. Studiamo la possibilità di metterci in contatto con gli alieni e siccome gli alieni saranno sicuramente più evoluti di noi, chiediamogli a loro le cose che non sappiamo. Esiste Dio? O perché non si chiede agli alieni? Vediamo cosa ci rispondono loro. Io credevo che avremmo potuto fare così. La realtà dei fatti mi ha portato in una direzione completamente diversa. Mi iscrivo comunque al Centro Ufologico Nazionale, però vedevo che a loro mancava qualcuno che avesse fatto degli studi tecnici e scientifici. C'era qualcuno che faceva lo storico, qualcuno che faceva l'archivista, qualcuno che faceva il giornalista. Sì, ma un fisico, un chimico, dove sono? Sono quelli che secondo me dovevano studiare, o anche loro, il problema degli alieni. E così mi sono iscritto, mi sono presentato un bel giorno, la prima volta a Milano, tanti anni fa, al congresso, convegno nazionale interno del Centro Ufologico Nazionale e ho detto sì, io studio chimica. Ah sì, studi chimica. Ah bene, allora interessante, potresti collaborare con noi. Sono qui apposta. Così al primo convegno, che in realtà, il primo convegno a cui io partecipai, ma era il secondo convegno internazionale del Centro Ufologico Nazionale a Cesano Maderno, si fece, io presentai una relazione. È una relazione che stravolse tutti, perché era utilizzo della trasformata di Fourier e della risonanza magnetica nucleare e della spettroscopia infrarossa e spettrometrica di massa nello studio dei fenomeni ufologici. La gente non capì nulla, ma qualcuno capì che forse erano cambiati i tempi e che bisognava fare 2 più 2, che non era mai stato fatto nella storia della ricerca dell'ufologia, almeno in Italia, per comprendere, se volevamo comprendere veramente sto fenomeno, Ducarco riandavano fatti. Ecco, ed allora io entrai nel Centro Ufologico Nazionale, perché la gente pensò che c'era bisogno di qualcuno che facesse i conti. Ci sono stato 35 anni. Come si passa da fare i conti a trattare un argomento molto più, diciamo, umanistico, psicologico, se vogliamo? Negli Stati Uniti d'America alcuni autori, 4-5 nel mondo, avevano scritto dei libri, avevano fatto dei lavori sullo studio di quelli che chiamavano abduction, cioè fenomeni di rapimento dovuti presumibilmente a razze aliene che venivano su questo pianeta per prelevare esseri umani e farci qualcosa. Gli esseri umani solitamente non si ricordavano queste esperienze, che però avevano lasciato traumi a livello psicologico in questi soggetti che venivano fuori, i traumi, a caso, ogni tanto, perché magari qualcuno si andava a curare. In America, sapete, in quegli anni la psicologia, la psicanalisi era molto di moda, quindi quando uno aveva il dolore a un piede, un callo, andava dallo psicanalista invece di andare dal dottore come avremmo fatto noi in Italia. Quindi alcuni soggetti sottoposti a ipnosi regressiva, cioè ipnosi profonda, che fa ricordare il trauma inconscio al soggetto, bene, nel ricordare questo trauma venivano fuori esperienze non ricordate di adduzioni aliene, dove gli alieni erano entrati nell'abitazione, nella vita di questi soggetti, avevano preso questi soggetti, li avevano portati fuori, nelle loro macchine volanti, nelle loro basi sotterranee, erano racconti allucinanti, sembravano racconti di fantascienza, ma questi racconti avevano tutti la stessa base, succedeva a tutti la stessa cosa. Noi in Italia, arriviamo vent'anni dopo, ci arriviamo con un caso, che è il caso di questo ragazzo che si chiama Valerio Lonzi, che siccome aveva un'attività a Genova, aveva aperto un locale, per farsi pubblicità, quando i giornalisti vanno a intervistarlo, racconta della storia a 15 anni che lui era stato, insomma, sottoposto a delle strane attenzioni da esseri non di questo pianeta. Il presidente del Centro Ufologico Nazionale legge questo articolo e mi chiede se posso andare a Genova a vedere di cosa si tratta. Nasce da lì la cosa, perché io parlo con questo ragazzo, in due anni e mezzo, quasi tre, di lavoro insieme a il dottor Moretti, che era un noto ipnologo italiano, cerchiamo di ricostruire, come avevano fatto gli americani, con le stesse basi, quello che Valerio Lonzi, così si chiamava questo ragazzo, aveva in qualche modo seppellito nella sua coscienza. Ne viene fuori una relazione che io consegno ai membri del consiglio direttivo di cui io facevo parte e il presidente del Centro Ufologico Nazionale mi dice «Ah, ma questo è importante, bisogna farci un libro sopra». Dico «Guarda, leggilo bene, perché ci sono scritte delle cose molto gravi lì sopra, il fenomeno è reale, sta succedendo questo. Come dicono gli americani, da noi in Italia sta succedendo la stessa cosa». Non abbiamo dubbi, ci sono le cicatrici sul corpo che dimostrano questo, ci sono i microchip incastrati nel corpo di questo ragazzo, ci sono le analisi che possiamo fare con gli strumenti che avevamo allora a disposizione. Voi avete trovato i microchip all'interno del corpo di questo ragazzo? Noi abbiamo trovato i microchip all'interno del corpo di tutti gli addotti che abbiamo studiato. E avete mai studiato i microchip? I microchip sono stati studiati in parte con tecniche in Italia, con tecniche non dirette. Per esempio, voglio dire questo, non sono stati estratti come hanno fatto alcuni studiosi americani e sottoponendo questi oggetti a opportune analisi come la risonanza magnetica nucleare ma soprattutto la spettrometria di massa a struttura fine, lì si vede chiaramente che la percentuale isotopica di questi componenti, di questi oggetti, non è una percentuale isotopica di componenti terrestri. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno dei neutroni in più nel nucleo, sostanzialmente. Siccome la percentuale dei neutroni nei nuclei, che ne so, di magnesio, di nickel, di ferro, sul nostro pianeta ha un certo valore, ma su un altro pianeta ha un valore differente, siccome i neutroni pesano ma non hanno carica, quindi ci sta che ci siano percentuali isotopiche differenti su altri pianeti. Una cosa un po' statistica. Quindi trovare un magnesio che invece di pesare 24 pesa 25 vuol dire che c'è un neutrone in più, sostanzialmente. Quindi non è un magnesio terrestre. Ecco, gli americani stabilivano questo. La percentuale isotopica era diversa, quindi quella roba era roba che non veniva da questo pianeta. Noi in Italia abbiamo fatto cose un pochino più modeste, quando io mi occupavo di queste cose sono passati già tanti anni, ma per esempio con la risonanza magnetica nucleare si possono evidenziare alcuni parametri che mettono in evidenza la densità dei microchip che compaiono nelle analisi. Una scala che si chiama scala Hansfield, Hansfield è quello che sostanzialmente ha inventato per la prima volta come fisico e come medico la risonanza magnetica nucleare, gli hanno dato anche il premio Nobel per la medicina per questo, attraverso quindi una fotodensitometria, la potremmo identificare così, si riesce a capire questi pallini, questi microchip, questi piccoli oggetti che sono posti sempre all'interno del corpo dell'addotto, sempre nelle stesse posizioni, sono fatti di materiali molto particolari, come per esempio gli stessi materiali che noi utilizziamo per fare microchip sul nostro pianeta. Quindi è evidente che queste analisi confermavano in qualche modo i risultati che gli americani a casa loro avevano ottenuto. Noi ottenevamo questi risultati, scrissi questo libro perché il consiglio del Centro Ufologico Nazionale, il consiglio direttivo mi disse si scriviamoci un libro, il presidente del Centro Ufologico Nazionale mi fece anche la prefazione, bontà sua e io pubblicai questo libro che credo abbia venduto 35.000 copie allora. Grande successo, ma il problema è che tanta gente, almeno 35.000 persone comprando il libro l'hanno letto e io mi sono ritrovato seppellito da telefonate, da lettere, da avvisi di persone che si ritrovavano nella storia di Valerio Lonzi, questo ragazzo che raccontava le esperienze rivissute, ricordate, ritirate fuori dall'ambiente dell'ipnosi regressiva con l'aiuto del dottor Moretti e dicevano ma anche a me è successo questo, io credevo di aver sognato, anch'io ho queste cicatrici sul corpo e nelle stesse posizioni in cui ce le ha Valerio, anch'io ma allora anch'io, anch'io, anch'io e alla fine dopo 24-25 anni avevo analizzato 3.500 casi. E tutti quanti portavano, diciamo, dei punti in comune? Tutti quanti avevano una sovrapposizione non solo di cicatrici sul corpo, non solo di microchip all'interno del corpo nelle stesse posizioni, non solo di stessi ricordi, non solo di stesse patologie. Una vita in cui si poteva studiare questo fenomeno perché da un punto di vista chimico e fisico sì, si potevano studiare le cicatrici sul corpo, studiare le composizioni chimiche di questi oggetti che il soggetto aveva dentro il corpo, ma dovevamo trovare un sistema per comprendere la psicologia di questo fenomeno e quindi l'unico modo che io avevo a disposizione per cercare di comprendere questo era la programmazione neurolinguistica, cioè attraverso le tecniche di programmazione neurolinguistica che è la rappresentazione del tentativo di scrivere una formula che descrive il comportamento umano. Se uno va a leggere un libro di programmazione neurolinguistica, una pagina è pura matematica. Attraverso questa strana matematica io riuscivo a descrivere il fenomeno della situazione psicoanalitica in cui il soggetto si trovava e quindi cercavo di rendere scientifico il peso di un ricordo, in qualche modo, il peso di un comportamento psicoanalitico. Era evidente che alla fine di tutto ciò il fenomeno delle abduction esisteva, era importantissimo, era gravissimo. Quello che si scopriva, perché ci dovevamo fare delle domande, è che questo pianeta è assoggettato alla volontà di esseri che venivano da un altro pianeta e che volevano da noi qualche cosa che noi non sapevamo di avere. Lei ha tutt'oggié convinto di questo? No, convinto, certo. Certo di questo? Cento per cento. Quindi lei oggi mi conferma, dopo tutti gli studi che ha fatto anche per quanto riguarda la creazione dell'universo, l'universo olografico, la proiezione esterna della nostra realtà, mi conferma che secondo lei, o comunque è certo, che sulla Terra vengono esseri provenienti da altri pianeti perché vogliono qualcosa da noi. Esattamente. E che cosa vogliono da noi? Quello che avremmo scoperto ci procurò uno stato di insicurezza personale perché era talmente strano. Si immagini lei adesso io quanto posso essere sicuro nel senso che mi sta dicendo con certezza che lei, ricercatore di 40 anni, ha la certezza che sul pianeta Terra vengono gli alieni perché vogliono qualcosa da noi. Esatto. E operano in una determinata maniera. Certo, il problema è seguire la logica. Se noi seguiamo la logica, la logica ci porta partendo dai presupposti che sono le condizioni al contorno del problema fisico, usando quelle che sono le formule che noi conosciamo ad un risultato finale. Funziona così. Allora, il presupposto era, condizione al contorno era, questi esseri vengono, non abbiamo più dubbi. Se vengono e vengono qui e fanno delle cose che sono sempre le stesse all'addotto che non se le ricorda ma che poi in ipnosi regressiva le racconta sempre nello stesso modo, ci deve essere un motivo. Quali sono questi ricordi? Il soggetto viene preso, viene portato in un ambiente alieno, viene sbattuto sul tavolo e viene operato chirurgicamente, gli vengono inseriti dei microchip. Nelle femmine viene utilizzato l'apparato genitale della femmina per introdurre un ovulo che dopo tre mesi viene ripreso e questo ovulo sotto forma di blastula viene, di esserino piccolo a questo punto, viene preso e viene messo in una specie di contenitore che sembra una piccola bottiglietta di vetro e portato dentro una stanza dove ci sono tante bottigliette di vetro, dove dentro ci sono tutti questi esseri e le bottigliette che sono sostanzialmente delle placente artificiali, cambiano di forma mano a mano che il soggetto cresce dentro fino ad ottenere forme di cilindri di vetro alti 2,40-2,50 m riempiti di uno strano liquido trasparente dove dentro si vede sempre sia esseri umani che esseri alieni con fattezze completamente diverse. Diverse tra di loro? Diverse tra di loro, ci sono diverse razze, non tantissime ma ce ne sono 5, 6, 7, 8, 10, sempre le stesse venivano raccontate, sempre le stesse venivano descritte. Questo era ciò che accadeva, tutti raccontavano esattamente la stessa cosa. Quindi da un punto di vista statistico, siccome la statistica è una scienza esatta sui grandi numeri, noi dobbiamo dire che questi racconti acquisivano un alto indice di credibilità. Allora da questo punto di partenza dovevamo chiederci ma perché loro fanno così? L'idea primaria era ma probabilmente perché loro sono sterili e utilizzano noi, in qualche modo, fanno prelievo di sperma nei maschi, ed era vero, fanno innesti di ovuli nelle femmine nostre, ed era vero, quindi loro sono sterili e usano noi senza che noi se ne sappia nulla. Sì, questa era in parte la verità, ma c'era una verità ancora più strana e stravolgente di cui noi ci accorgemo per puro caso, ovviamente, lavorando in quell'istante, in quel momento storico, con tre gruppi diversi di ricerca che facevano le ipnosi regressive su gruppi sempre differenti di soggetti. Poi i dati venivano raccolti e venivano paragonati dei tre gruppi diversi. Ognuno dei tre gruppi aveva gli stessi identici risultati. Quello che successe la prima volta è la seguente cosa. Si prende il soggetto, si mette in un'ipnosi profonda, questo racconta di vedersi dall'alto mentre lui si vede steso su una specie di lettino metallico, che era sempre lo stesso, descritto nello stesso modo, con un'unica gamba al centro, un po' svasata così, vedete, anche i piccoli particolari erano uguali. Tutto dall'alto si vedeva e vedeva due se stessi, uno disteso su un lettino metallico e l'altro dentro uno di questi grandi cilindri, uno uguale a lui, una copia. A questo punto la tecnica prevedeva di fare delle domande di controllo, che tentassero di stabilire se il soggetto stesse ricordando veramente qualcosa, rivivificando, come dice il manuale di ipnosi, il termine vero, corretto, ericksoniano, oppure si stesse inventando delle cose. Senza entrare nei particolari, l'ipnosi regressiva è una tecnica che prevede che se uno fa bene il proprio lavoro, il soggetto non inventa niente, non è in grado di inventare niente. La affidabilità dei ricordi in ipnosi, nell'ipnosi corretta, scientificamente fatta, sono perfetti, sono assolutamente credibili. Il soggetto si vedeva dall'alto, le domande erano guardati le mani e il soggetto in ipnosi rispondeva ma io non ho le mani, non vedo le mani, guardati il corpo, ma io non vedo il corpo, come ti chiami? E il soggetto rispondeva ma noi non abbiamo nome, al plurale. E poi dopo 30 secondi di pausa diceva io so come si chiama lui, quello che vedo laggiù in basso, si chiama Giuseppe, è il mio contenitore, io ci abito dentro, sono venuto lì dentro per fare l'esperienza. Strano. Ma allora definisci chi sei? E la risposta era io sono la vita. Una matrice di punti di luce, ancora più incredibile. Domande, risposte, tutte sempre uguali, fatti, su 300 persone. 300 persone rispondevano nello stesso modo. Sai cosa vogliono? Allora chiedevo. Sai cosa vogliono quegli esseri strani che vengono a prenderti? Eh, loro non vogliono il mio contenitore, anche lui, ma vogliono soprattutto me. Perché? Perché io sono la vita e loro non vogliono morire. Queste risposte ci lasciarono con la bocca aperta, perché pensammo ci deve essere qualche cosa che stiamo sbagliando. Alla fine, dopo 3500 casi analizzati, non ci stavamo sbagliando. Questa era qualcosa che rispondeva, che aveva una propria coscienza, che abitava all'interno del nostro corpo, a cui non demmo un nome convenzionale, la chiamammo anima. Ma in realtà è un gruppo di tensori e di vettori, da un punto di vista fisico e geometrico, che ha la caratteristica di avere l'asse dell'energia, l'asse dello spazio, ma di vivere il tempo in modo non locale, direbbe la fisica quantistica moderna, cioè di vivere il tempo in un unico momento, vivere totalmente il tempo, passato, presente e futuro, come se fosse non locale. Nel contenitore umano c'erano altri due pezzi, una parte mentale e una parte spirituale. la parte mentale era fatta di spazio e di tempo, la parte spirituale era fatta di energia e di tempo, ma non di spazio. Vedete che a ognuna di queste tre parti mancava un vettore. Allo spirito mancava lo spazio, a anima mancava il tempo e alla parte mentale mancava l'energia. all'alieno interessava la parte animica, cioè quella parte senza tempo. Perché? Perché l'alieno non voleva morire. Il non voler morire era, in qualche modo, si cercava di bypassare questa voglia di non morire utilizzando un pezzo che non avendo la parte animica, non avendo la parte temporale, era immortale. Noi scoprivamo in quel momento che gli esseri umani sono immortali. Scoprivamo che avevamo dentro di noi una parte immortale, che non aveva l'asse del tempo. Ma allora, perché ci dobbiamo fare sempre delle domande, come mai noi moriamo? Noi abbiamo una parte immortale e moriamo. La risposta veniva piano piano, ma era l'unica risposta possibile. Noi moriamo perché dobbiamo fare l'esperienza della morte. Siamo qui per acquisire la consapevolezza del cominciare, fare l'esperienza della vita e morire, cominciare e terminare. Fare un'esperienza della dualità, cioè un istante in cui noi dobbiamo comprendere chi siamo. E l'unico modo per comprendere chi siamo è metterci alla prova, vivere in una realtà solida in cui ci sono le esperienze, le esperienze della vita, le esperienze della sofferenza, della gioia, del bene, del male, del duale. Buono, cattivo, acceso, spento. Perché tutto doveva essere duale? E l'idea fu, utilizzando ciò che veniva fuori dalle ipnosi regressive e ciò che veniva fuori dalla esperienza che la parte animica portava, perché la parte animica, non avendo ose del tempo, c'era dall'inizio dei tempi, c'era sempre stata e diceva le cose come stavano. Noi siamo qui, entriamo in questi contenitori che sono i corpi umani per fare l'esperienza della vita, lo diceva lei. Non avevamo bisogno noi di farci una teoria. All'inizio c'era la coscienza. La coscienza, non sapendo chi era, per caso si è divisa in due e nell'istante in cui si è divisa in due è nata la dualità. In quell'istante nasce l'universo virtuale, così come lo conosciamo oggi. Virtuale non vuol dire finto, virtuale vuol dire modificabile. L'universo virtuale è quel punto e quell'istante in cui c'è la separazione. Io, l'altro, io credo che l'altro sia un altro, invece l'altro sono sempre io. Tutto è stato creato da un'unica cosa che però vive esperienze diverse, come se noi fossimo un polpo con tantissimi tentacoli e ognuno dei tentacoli è una piccola coscienza, una piccola telecamera che guarda l'interezza dell'universo per fare la sua piccola esperienza. Dopodiché tutto si richiude e tutto torna a essere uno, ma non è l'uno di partenza, è un uno che ha fatto esperienza di sé. Quindi è un uno che capisce che cos'è l'unità, l'unicità, perché ha fatto l'esperienza del contrario, cioè della separazione, della dualità. Noi siamo qui per imparare a vivere e a morire, perché solo attraverso l'esperienza si impara e solo attraverso l'esperienza della morte si capisce che la morte non esiste. Ecco, è l'alieno che c'entrava in tutto questo? L'alieno non aveva la parte animica, l'alieno aveva una mente, aveva un corpo, aveva uno spirito, gli mancava l'hardware della parte animica. Non avendo l'hardware della parte animica, non sapeva che la morte non esiste. Non solo, ma questo portava l'alieno ad avere paura della morte, proprio perché non la conosceva. E per evitare di morire, l'alieno ha installato dentro di sé l'idea animica che deve prendere la vita a qualcun altro, perché lui non vuole fare l'esperienza della morte. Noi invece siamo venuti qui, pur avendo tutte le parti, tutte le coscienze di anima, di mente e di spirito, che sono tre cose che si comportano con tre coscienze differenti, tre rematori che remano sovente in questo mondo, non avendo consapevolezza neanche l'uno dell'altro, le tre parti, remano in tre direzioni diverse. Noi ci troviamo a fare l'esperienza della morte perché siamo venuti qui per volerla fare, questa esperienza della morte. E non ha senso allungarci la vita in eterno, diventare immortali, come nel mito del ritratto di Dorian Gray, che fa nell'omonimo film, nell'omonimo romanzo, il patto col diavolo e invecchia la propria anima, il proprio quadro, ma lui non invecchia. Nel ritratto di Dorian Gray c'è scritta la realtà. A un certo punto Dorian Gray, che ha fatto questo personaggio del film, del libro, ha fatto il patto col diavolo, capisce che vivere in eterno è una cosa tremenda, è uno sforzo allucinante e soprattutto non fa quello che deve fare, cioè l'esperienza della morte. Attraverso l'esperienza della morte si comprende che la morte non c'è benissimo, quindi noi la dobbiamo fare questa esperienza. Non ha senso allungarci la vita, ha senso soffrire di meno, ma questo è un altro particolare. L'alieno, non avendo la parte animica, è come un computer che non ha la scheda hardware, non capisce neanche che cosa vuol dire vivere o morire e pensa che può utilizzare quello che abbiamo noi, prendendolo, utilizzandolo per vivere in eterno. Ed ecco che si scopriva cosa stava succedendo. L'alieno veniva, ti prendeva, ti metteva non solo su un tavolo operatorio, ma anche dentro uno di questi strani cilindri da cui con una tecnica che sembrava ricordare l'equalizzazione di un suono, cioè faceva vibrare il corpo a una certa frequenza, la parte animica si staccava e in ipnosi raccontava esattamente quello che stava succedendo. si staccava, veniva posto attraverso una specie di corridoio che era un tubo, dentro il corpo di un alieno. In quel momento il ricordo del soggetto in ipnosi era il ricordo di un alieno, si guardava le mani, aveva sei dita e di solito lui ce ne ha cinque e diceva come mai? Queste non sono le mie mani, come mai ci sono palmate le dita, come mai ho la pelle colorata di verde, come mai ho gli occhi con le pupille verticali, come mai sono la nostra parte animica ridonava la vita all'alieno che stava per morire. In quell'istante la parte animica veniva ripresa e rimessa nel continitore originario, l'unico posto dove si sarebbe potuta ritrovare e riprendere in una seconda volta. Quindi secondo quello che stai dicendo è solamente una transizione momentanea? Una trasposizione momentanea, sì, una migrazione momentanea della parte animica, cioè di questo gruppo di vettori e di tensori che noi chiamiamo convenzionalmente parte animica perché nel mito sostanzialmente viene identificata come tale, ma ciò denuncia anche il fatto che l'alieno non è in grado di conservarla e quindi non è in grado di ingabbiarla, la deve rimettere dove l'ha trovata perché sennò la perde. Rimanendo per me abbastanza un punto fisso il fatto che quello che sta dicendo è quasi incredibile, la domanda che mi faccio però facendo finta che fosse vero, come mai invece l'alieno allora non ha l'esigenza di fare l'esperienza della morte? Secondo quello che mi sta dicendo lui ha, lui, loro hanno diciamo una paura della morte che però li limita in qualche modo perché non gli fa fare quell'esperienza che secondo lei per noi è fondamentale per comprendere come funzionano le cose. È un problema legato alla divisione e alla paura. In realtà la paura non esiste, esiste solo come momento in cui noi vediamo l'universo sotto forma di un universo diviso. Io sono separato, la vita e la morte sono due cose diverse. Allora è chiaro che io siccome credo di vivere ho paura di morire perché nel morire ho paura di perdere la mia identità. Ma la vita e la morte non sono due cose diverse, perché la morte non esiste. Quindi la vita e la morte sono due aspetti di un processo di acquisizione di consapevolezza. Quindi in questo contesto la paura si vive solo perché io credo di vivere in un mondo duale, separato da qualcosa. Separato da, non so, ho paura di invecchiare, ho paura che il mio amore mi lasci, ho paura di non riuscire a studiare questa cosa, ho paura di prendere un brutto voto. Ho paura che mi chiedono nel canale dopo questa intervista. Certo, questo è vedere l'universo con l'altro in modo separato. E allora la paura è una misura della separazione dall'altro. Nell'istante in cui io capisco che non c'è nessuna separazione, che noi purtroppo, per fortuna, siamo tutti una cosa sola, io non posso aver paura di perdere niente, perché l'altro che sto credendo di perdere sono sempre io. Io non posso perdere la mia consapevolezza. Sono io. È impossibile fare questo. La paura nasce dall'idea che io sia separato, che a me manchi qualcosa. Ma l'idea fondamentale, alla fine di tutto questo discorso, che forse è la cosa più tremenda, è che noi siamo i creatori del nostro universo. Noi siamo la coscienza. Noi siamo quei pezzettini di coscienza primordiale che si sono divisi in tante coscienze più piccole. Noi quindi siamo la creazione. Noi creiamo le cose. Non lo sappiamo, non ce le ricordiamo, non ne abbiamo consapevolezza. Ma è giusto che sia così, perché per fare l'esperienza io mi devo dimenticare chi sono. Se no, l'esperienza non ha nessun valore. Ammettiamo che io sia il ricco del film americano a New York che vuol fare l'esperienza di essere povero, nel Bronx, per una settimana. Questa esperienza te la puoi fare solo se ti dimentichi totalmente che fra una settimana tornerai a essere ricco. Se no, non la puoi fare questa esperienza. La vivi in un altro modo. Quindi noi siamo venuti qui a fare l'esperienza della divisione e della inconsapevolezza. Ma una volta che cominciamo a comprendere e ci ricordiamo che le tre sfere, le tre parti luminose, le tre essenze, anima, mente e spirito, abbiamo chiamate così, che hanno tre coscienze separate, si possono riunificare, noi torniamo a essere i creatori dell'universo. In questo contesto noi abbiamo paura di non esserlo, i creatori dell'universo, perché siamo separati. Dov'è la paura dell'alieno? La paura dell'alieno è una paura superiore alla nostra un milione di volte, perché l'alieno invece di avere tre pezzi, un'anima, una mente e uno spirito, da un punto di vista vettoriale tutte le componenti, a loro gliene manca una. vivono questo rapporto di separazione con la parte animica, con questo che è l'universo archetipale femminile, direbbe uno psicanalista come Jung o come Hillman, per venire a tempi ancora più moderni, il non riconoscersi totalmente nella parte femminile, tremenda la paura che questo pezzo che gli manchi non gli permetta di comprendere che la morte non esiste neanche per loro. Perché dico questo? Perché mentre la parte animica è sostanzialmente immortale, cioè non ha l'asse del tempo, la parte spirituale e la parte mentale nostra e anche dell'alieno ha comunque una coscienza che non è immortale ma è eterna. Quindi fuori dal tempo. Fuori dal tempo, assolutamente noi tutti, anche l'alieno, fa parte di una cosmogonia in cui questo uovo cosmogonico è una cosa sola. Solo che l'alieno non lo sa, non ne ha consapevolezza. Noi non ne abbiamo consapevolezza ma avendo le tre parti riusciamo ad avere una coscienza superiore e comprende, superiore vuol dire più allargata, e comprende le cose che l'alieno non può capire. L'alieno ha la tecnologia, l'alieno è nato milioni di anni prima di loro. Però secondo quello che mi dice l'alieno queste cose le ha capite. L'alieno, un conto è capirlo, un conto è fare l'esperienza. L'esperienza è una cosa fondamentale perché attraverso la comprensione si comprende che le cose stanno in un certo modo. E io ti posso dire, ti racconto che cosa vuol dire avere preso una martellata su un piede. Ma per quanto te lo racconti non ha niente a che fare con l'ho presa veramente la martellata sul piede. Bisogna sentire il dolore. Bisogna sentire il dolore. Allora l'alieno ha compreso questa cosa ma ha il terrore di morire, ha il terrore di soffrire, ha il terrore di fare l'esperienza della vita. Non vuole farla. Non vuole perciò morire. E non volendo morire si preclude l'esperienza di una eternità. Perché solo attraverso l'esperienza della morte capisci che la morte non c'è. L'alieno quindi si castra con le proprie mani. Invece di scegliere un percorso di acquisizione di consapevolezza differente decidendo di morire e quindi di fare il suo percorso, la sua esperienza ha deciso di prendere la parte animica a lui. Nel mito questo c'è scritto. I demoni vogliono la tua anima. Questo è in tutte le storie del mito del mondo c'è questo tipo di situazione. E qui va sottolineata una cosa importante. Nel mito c'è scritto tutto. Perché nel mito c'è scritto tutto? Il mito non è la storia. La storia è storicistica. Cioè a secondo di chi va al governo ti scrive un libro e ti cambia i parametri della storia. Il mito è un solo fotogramma. Un fotogramma quindi aspaziale, atemporale. Un fotogramma che riflette la fisica quantistica. Nel mito c'è il passato, il presente e il futuro. C'è già scritto tutto anche come andrà a finire questa storia. E perché tutti i miti del mondo, per esempio i miti della creazione, sono tutti uguali. Tutti uguali. Perché noi siamo i creatori dell'universo. E noi del tutto inconsapevolmente quando scriviamo una storia la proiettiamo fuori questa storia perché non conosciamo la realtà di questa storia. E solo estroiettandola fuori possiamo avere la possibilità di guardarla da fuori e di renderci conto che la storia che abbiamo creato, che chiamiamo mito, è quella vera. Quindi nel mito c'è l'idea che noi siamo i creatori dell'universo. Nel mito c'è la fondamentale idea da Platone in giù ma anche prima di Platone che gli dei hanno fatto qualcosa per separarci, per staccarci, per dividerci perché l'essere umano, cioè la coscienza totale, era troppo potente. Non si poteva manipolare. Capisci cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io ho oggi come oggi, se tutto questo per un solo istante, per un solo secondo è vero, io comprendo, ricordo, capisco che sono una coscienza fatta di un'anima, una mente e uno spirito che si sono divisi per fare l'esperienza della divisione. Ora sai cosa si fa? Si ritorna tutti e tre insieme. Vuoi vedere che sono in grado di tornare quella che era la coscienza che era prima, però con pieni poteri, avendo acquisito la consapevolezza di chi sono, sapendo che cos'è la separazione. Questo l'alieno non lo può fare perché il suo percorso di acquisizione di consapevolezza è un percorso differente. Non può venire l'alieno e prendermi la mia coscienza, la mia consapevolezza e usarla. Non può rubarmi la mia esperienza. Questo sostanzialmente era quello che voleva fare l'alieno, che poi lo fa stragiandoti la vita, cioè non chiedendoti il permesso, trattandoti come una specie di fattoria, la terra, in cui noi saremo delle mucche e che gli stiamo dando il buon latte. Perché queste mucche cosa fanno? Gli danno la possibilità di sopravvivere. Perché noi, in qualche modo, attraverso il nostro materiale biogenetico, facciamo in modo che la loro vita fisica, virtuale, continui. In più ci succhiano questa parte di energia fondamentale, che è la parte animica di coscienza, dove ci prendono l'esperienza della vita nel tentativo disperato di non morire. mentre è proprio la direzione sbagliata che loro stanno prendendo. Qui si capisce anche una cosa fondamentale, che differenza c'è tra l'alieno che viene e noi. Chi è l'essere più evoluto? L'essere più evoluto siamo noi. Perché? Sì, dipende dai punti di vista. Magari a livello tecnologico si può dire che sono più evoluti loro. No, no, no. Non è un problema di punto di vista. Perché questo che sto per dire ha la caratteristica, come alcuni aspetti della fisica quantistica, di essere uguale a qualsiasi punto di vista si prenda. Cioè, la velocità della luce è da qualsiasi punto di vista dell'universo sempre la velocità della luce. Però quello che volevo dire è che un esterno che osserva la situazione vede, ipoteticamente, un alieno che viene sulla Terra. È un essere umano che ha dei limiti a uscire dall'atmosfera. Sì. Matematicamente dice l'essere più evoluto è quello che è tecnologicamente più avanti. Sì. Questo dicevo, intendevo come punto di vista. No, non è così. Non è così perché l'avanzamento tecnologico non è l'evoluzione. Questa è un'idea che abbiamo noi. L'evoluzione è un'evoluzione della coscienza, non è un'evoluzione della tecnologia. Se io dovessi con queste due mani rappresentare il percorso evolutivo degli esseri alieni, l'alieno è partito prima ed ha cominciato ad evolvere. Poi è nato l'uomo e rapidamente ha superato l'alieno. Perché noi, avendo quel pezzo in più che loro non hanno, loro sono come le formiche, anche le formiche stanno facendo la loro evoluzione. Certo, negli ultimi 600 mila anni, no, negli ultimi un milione di anni, la formica è rimasta sempre la stessa. Mentre noi, dall'uomo di Pechino a oggi, ci siamo evoluti molto rapidamente. Questo cosa vuol dire? La formica è praticamente rimasta la stessa. Un po' ha fatto la sua evoluzione, anche la formica. Ma noi non ce ne siamo praticamente nella nostra scala temporale meno accorti. Ecco, l'alieno di 600 milioni di anni fa è l'alieno di oggi. L'uomo di 600 milioni di anni fa non è l'uomo di oggi. Dal Neanderthal, dal Cro-Magnon a oggi c'è stata un'evoluzione incredibile. Ma perché questa evoluzione ascheggia e partita così per l'uomo e l'alieno no? Perché noi abbiamo la coscienza di anima, di mente e di spirito. Tre cose, loro solo due. Però io prima di dire che siamo un'evoluzione evoluta ci metto un attimino. Il problema è legato al fatto che sovente in questo processo evolutivo che passa attraverso la nostra non consapevolezza di quello che stiamo facendo, noi stessi ci mettiamo i bastoni fra le ruote. Questo è dovuto in parte a noi e alla nostra mancanza di consapevolezza, che ci fa scegliere sovente percorsi contra termodinamici. E' dovuto anche all'alieno stesso, che non vuole che noi si acquisisca la consapevolezza di chi siamo, perché altrimenti, rendendoci conto di questo fatto, noi impediremmo a loro di fare quello che loro ci fanno. Veniamo in concreto. Primo esempio. Io mi metto i bastoni fra le ruote. Io non so di essere il creatore dell'universo. Ma se per un attimo qualcuno me lo dice e io ci penso, allora penso che io quando mi ammalo sono io stesso che produco su di me gli effetti della malattia. Io creo la mia malattia. Allora se questo è vero, io che mi sono auto-ammalato posso auto-guarirmi. Benissimo. Allora facciamo un loop. Io sono qui e sono sano. Schema blocchi. Sono qui e sono sano. A un certo punto mi ammalo. A un certo punto capisco che sono stato io che mi sono ammalato. Faccio processo inverso. Capisco che mi posso fare un processo inverso e quindi auto-guarirmi. Per fare questo capisco che ci vuole coscienza e consapevolezza. Per fare questo bisogna che io capisca perché mi sono ammalato. Qual è la ragione? Che cosa dovevo capire? Lo voglio veramente capire? Quale trauma ho subito che mi ha costruito questa malattia? Voglio veramente passare attraverso una sofferenza cosciente? E qui la risposta è quasi sempre no. Rimango malato. Perché se l'esperienza è sì, in quell'istante faccio qualcosa per guarire e guarisco. Questo vuol dire una cosa fondamentale. Che noi stessi creiamo questo loop e a un certo punto non usciamo più fuori da questo loop perché crediamo che la cura sia più dolorosa della malattia. E quindi rimaniamo malati. intrappolati dalle nostre stesse false credenze determinate da una bassa consapevolezza. Che cosa fa l'alieno? Che cosa fa l'alieno o l'alienato, cioè colui che conosce perfettamente tutta questa storia e non vuole che la popolazione acquisisca consapevolezza di sé. La consapevolezza di sé è legata al secondo principio della termodinamica che dice l'entropia aumenta sempre nell'universo. L'entropia si può mettere in relazione, non perché l'ho detto io, ma perché lo dicono altre 200 persone sui lavori scientifici che hanno pubblicato sui principali giornali scientifici del mondo. La consapevolezza è legata alla coscienza, è una misura della coscienza. E la coscienza è l'entropia. L'entropia è, peraltro, l'ordine del sistema. L'entropia aumenta quando la coscienza aumenta e l'energia del sistema si abbassa. Quindi tutto diventa più simmetrico. Questo che cosa vuol dire? Che mano a mano che io acquisisco consapevolezza di me, il sistema deve diventare più simmetrico. In parole povere, se ci sono due, tre, quattro, cinque esseri e questi si uniscono in unica essenza, l'entropia aumenta, la coscienza aumenta, la simmetria aumenta. Allora, è importante comprendere questa cosa, perché chi governa non vuole che la tua coscienza aumenti. Quindi ti deve tenere separato. Che cosa fa il potere politico? Per esempio, il potere temporale della Chiesa, il potere in generale. Ti categorizza, ti dice, sai, tu sei in democrazia. Puoi fare quello che vuoi. Puoi scegliere. Ci sono le elezioni. Puoi votare a destra o puoi votare a sinistra. Vedi? Puoi scegliere. È una scelta falsa. Perché sia la destra che la sinistra, come dico sempre, sono in realtà due aspetti di una dualità che non esiste, ma che ti appare duale. Ma che se te l'analizzi perfettamente, oggi come oggi non ho paura di essere smentito, sia la destra che la sinistra, per esempio da un punto di vista politico, sono due mani, due long manus della mazzoneria. Cioè di chi tiene veramente il potere. Che finanzia sia la destra che la sinistra. Così chiunque va dal governo vince sempre chi. Chi ha dato i fondi sia alla destra che alla sinistra. Quindi si capisce perfettamente ora perché i programmi politici della destra e della sinistra sono praticamente quasi sovrapponibili. O comunque c'è la stessa ideologia che fa da matrice. C'è una stessa ideologia che fa da matrice. Si comprende perché questi tipi di ipotesi di civiltà o di destra o di sinistra stiano fallendo. Una per una falliscono tutte. Perché se noi stessi siamo i creatori dell'universo, noi creiamo una realtà anche ideologica esterna che è la parte di noi che non abbiamo capito. E' per questo che il mondo politico poi alla fine non ci piace. Perché sostanzialmente quella parte che noi non abbiamo capito di noi non ci piace. E quindi l'analisi storica, l'analisi sociale, l'analisi politica del perché certi modi di governare il popolo non hanno prodotto che danni è determinata dal fatto che noi dentro viviamo separati. Cioè la nostra parte animica, la nostra parte mentale e la nostra parte spirituale. Cioè se volete dirlo come lo potrebbe dire Hillman, la nostra parte femminile e la nostra parte maschile non sono coesi insieme in quel matrimonio alchemico che rende l'uomo una coscienza coesa, unita. Quindi abbiamo la civiltà di destra che è una civiltà del superuomo, del macio, del maschio che è una civiltà prettamente maschile di chi comanda e chi usa la femmina solamente come suppellettile da utilizzare. Lo vedete nella civiltà di oggi, la chiesa per esempio, cattolica, non ammette se non figure di secondissimo piano, se così si può dire, la figura femminile. Nella politica le donne scimmiottano, le donne più che altro sono femmine, scimmiottano la parte del maschio. Ma se no non gli si darebbe quel potere che hanno. Qualche giorno fa discutevo con un mio amico che i nostri ascoltatori conoscono, sul fatto che lui diceva, secondo me una donna non può fare il ministero della difesa. Assolutamente d'accordo. Io gli ho detto, secondo me il problema non è che una donna non può fare il ministero della difesa, è che quel concetto lì è un concetto esclusivamente maschile. Se vuoi mettere una donna a fare quel lavoro lì, quella donna deve fare l'uomo. Assolutamente. Esattamente. Questa è la rappresentazione del fallimento del 68, del fallimento del movimento femminista per esempio. Perché nel movimento femminista c'era l'idea dell'eguaglianza, ora l'idea dell'eguaglianza è una stupidaggine che Nietzsche mette in evidenza in modo preciso. Nietzsche dice che l'idea dell'eguaglianza l'hanno diventata gli stupidi, perché non hanno nessun'altra possibilità, se non sentirsi uguali agli altri, che ci sia l'eguaglianza, perché se no rimangono stupidi. Allora la femmina non può essere uguale a un maschio, la femmina è femmina, il maschio è maschio. Ci sono strutturali, percorsi neuronali differenti, ognuna con la propria idea. Il maschile e il femminile, pur essendo diversi, l'unica cosa che possono fare è integrarsi in una coscienza integrata, in cui io non vedo il mondo solo da un punto di vista maschile o solo da un punto di vista femminile, ma ho la possibilità di vedere le due facce della medaglia contemporaneamente. Ecco, l'integrazione, non il raggiungimento di una ipotetica uguaglianza che non esiste. Il modello, lo studio dell'alieno, ci faceva capire come la chiave di lettura, che ci aveva fatto capire che noi eravamo fatti di anima, di mente e di spirito, ci poteva permettere di utilizzare questo modello di lettura per un modello socio-politico-economico, moderno, incredibile, in cui non c'era più la dualità, non viene vista la dualità. Il maschio e la femmina sono la rappresentazione di una dualità, ma nel mito c'è anche scritta tutta questa storia. E poi, quando uno la va a rileggere con la propria consapevolezza, comprende esattamente che cosa succede nel mito. Nel mito c'è, per esempio, la figura dell'androgeno. L'androgeno è un maschio e una femmina attaccati insieme per la schiena, che vuol dire che loro non si vedono, cioè la mia parte femminile sta dietro e lei non può guardare me, perché siamo legati per la schiena. A un certo punto Dio dice, questo uomo con due teste, quattro baci e quattro gambe, è troppo potente, io non lo posso governare. Fate finta che Dio sia l'alieno di oggi. Lo devo dividere. E allora chiama Hermes, che divide l'uomo, Mercurio, che divide l'uomo in due parti. E le due parti si staccano. E l'androgeno fa il suo percorso e vedete cosa sto facendo? Il percorso è rotante, cioè una rotazione, perché il tempo per la fisica quantistica è circolare, non lineare, come diceva Sant'Agostino. E anche prima di Sant'Agostino si diceva che il tempo era circolare, ma poi arriva Sant'Agostino e dice, eh, l'uomo è stato perdonato dal peccato originale, quindi non è possibile che ripecchi rotazione del tempo, cose che accadono ciclicamente. Quindi il tempo da oggi sarà lineare. E così ha messo un bastone fra le ruote alla fisica quantistica, che si deve riappropriare del concetto di tempo circolare. Quindi la linearità del tempo è un concetto cattolico, fondamentalmente. Assolutamente è un concetto cattolico. È un concetto cattolico che ha fatto dire agli scienziati, e lo ha fatto scrivere sui libri di fisica, che il secondo principio della termodinamica prevede che l'entropia sia una misura del disordine. disordine. No, è una misura dell'ordine. Questa la gente ancora non l'ha capito, ma sui libri veri c'è scritto per benino, meno delta S, no più delta S, cioè è una misura del meno disordine. Il meno disordine è l'ordine. L'universo si sta raffreddando, si sta omogeneizzando, tutti i pezzi dell'universo stanno andando al loro posto. Quello è l'ordine. Ma a metà del 1800, quando si scopre questo concetto fondamentale, la Chiesa non poteva ammettere che la creazione di Dio si sarebbe raffreddata, sarebbe morta, si sarebbe spenta, e gli ha dovuto dare un'accezione negativa. Per questo la scienza del 1800, ob torto collo, chiama il secondo principio della termodinamica misura del disordine, mentre in realtà è ordine. L'ordine aumenta e mentre aumenta l'ordine, aumenta col passaggio del tempo, la coscienza delle persone. La coscienza aumenta sempre, non diminuisce mai, come l'entropia. Ecco perché la coscienza e l'entropia sono una misura dello stesso tipo, che vanno nella stessa direzione. Io sono un po' disorientato da una cosa. Ogni volta che l'ho sentita parlare di alieni, immaginavo lei si riferisse a un'antropomorfizzazione di parti egoiche degli esseri umani. Però mi pare di capire che non è assolutamente così. No, non è così. Cerchiamo di chiarire questo concetto fondamentale, perché molte persone si sbagliano proprio, perché i discorsi vanno contestualizzati. Allora, gli alieni sono esseri solidi, come noi, che vengono da un altro posto. Alieno vuol dire che viene da fuori. Allora, quindi, non avrei potuto chiamare, identificare con il nome di alieno, qualche cosa di cui noi stessi siamo portatori. O generatori anche. Sì, è vero che noi abbiamo creato l'universo, quindi, ma noi non come esseri umani, noi come coscienza. Anche l'alieno, da questo punto di vista, è un creatore della coscienza. Tanto è vero che nell'istante in cui noi ci specchiamo, io mi specchio di fronte all'alieno che deve rappresentare qualche cosa che io non ho capito. E così l'alieno si specchia nei confronti dell'umanità. E gli specchi sono così. Io devo capire dall'alieno qualcosa. E uso l'alieno per capire che io sono fatto di tre parti che devono essere riunificate. Un'anima, una mente e uno spirito. Cioè io mi devo ricordare che sono il creatore dell'universo. L'alieno che mi prende, che mi guarda, che mi usa, che mi schiavizza in qualche modo, deve capire che io rappresento un percorso di coscienza che lui sta rifiutando. Deve capire che non riuscirà mai a fare quello che lui vuole da me. Perché non riuscirà mai a prendere la mia essenza, non riuscirà mai a prendere la mia esperienza, non riuscirà mai a schiavizzare la mia parte animica. E io sono l'immagine davanti all'alieno del percorso di consapevolezza che lui ha sbagliato. E glielo ricordo tutti i giorni, quando lui ha delle difficoltà a prendermi e a farmi fare quello che vuole lui. Quindi anche l'alieno, da questo punto di vista, è una parte della coscienza e utilizza a specchio il suo modo di creare l'universo per capire all'esterno ciò che non ha capito di se stesso. Non è che siamo su due piani, uno meglio e uno peggio, che sono discorsi duali. Siamo su due piani coscienziali differenti, ma non c'è una coscienza positiva e una coscienza negativa. C'è una coscienza che va da zero a infinito, cioè non è duale. La coscienza è un numero sempre positivo. Non c'è un più e un meno. L'aspetto fondamentale che può far pensare che l'alieno sia finto è perché io dico che il mondo è virtuale e quando abbiamo creato il mondo, il mondo virtuale è un mondo fantastico, finto. Oppure parlo di universo olografico. L'universo, secondo la fisica moderna e l'astrofisica moderna, è un ologramma. Quindi, quando uno sente parlare di ologramma, dice ma è qualcosa che ci metto la mano nel mezzo e passa da parte a parte, o è finta, come se fosse un'idea. No, virtuale vuol dire un'altra cosa, non vuol dire finto. Virtuale vuol dire modificabile. Cioè, io mi muovo, prima sono in una posizione, poi sono in un'altra posizione, ho cambiato di me lo spazio, il tempo e l'energia. Quello vuol dire modificabile. La realtà reale, invece, che è solo la coscienza, è immutabile. È sempre la stessa e questo è il motivo fondamentale di perché non si può scrivere una formula matematica che descriva la coscienza. 5 uguale a 5 non ha nessun significato da un punto di vista matematico. La coscienza è indescrivibile solo perché è immutabile. Io posso descrivere attraverso una formula f di x uguale a y qualcosa che cambia nel tempo, nello spazio, nell'energia. Se no, questo concetto ci fa capire come noi possiamo vedere l'universo nella sua manifestazione, poiché essa si manifesta nel fare. Perché se l'universo non facesse, noi non vedremmo niente. Pensate semplicemente alla luce. La luce è invisibile. È un concetto strano, no, pensare che la luce sia invisibile. Ma ammettiamo che io sono un astronauta nello spazio profondo. Si vede tutto buio. Lì c'è il sole, lì c'è la luna, la luna è illuminata, il sole è illuminato e nel mezzo non c'è niente, è buio. Scusi, finché non mi levo questa domanda dalla testa non riesco a continuare a seguirli. Sì. Ma che senso ha? A che cosa serve tutto questo? Serve solo a sapere chi siamo, non serve ad altro. E lei che risposta si è data? Chi sono? Chi siamo. A noi siamo e nel dire noi siamo è la stessa cosa che dire io sono, perché noi siamo la stessa cosa. Perché a 16 anni mi hanno detto che questa domanda era meglio che non me la facevo più. No, 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 invece questa domanda va fatta ed è proprio nell'istante in cui si fa che si è raggiunto, dei due scalini se ne è fatto uno. Nella scala dell'evoluzione umana ci sono solo due scalini. Uno chiedersi chi siamo e poi chiedersi perché. Allora tutti i processi, tutti i processi di acquisizione di consapevolezza di qualsiasi tipo nell'universo hanno tre step. Un inizio, una risoluzione interna e una fine. L'inizio è io, per esempio, il malato, il sano che diventa malato e che poi torna sano. Sono tre step, no? Il primo, sono sano ma sono inconsapevole. Nell'istante in cui mi ammalo, secondo step, è perché la malattia è un momento di acquisizione di consapevolezza, un'opportunità per capire. Quindi è come se io mi facessi una domanda a cui non so rispondere. Nell'istante in cui mi rispondo guarisco e torno a essere sano. Ma allora il punto numero uno, ero sano. Il punto numero tre, sono sano. Ma perché devo fare tutto questo percorso per rimanere sano? Perché c'è l'entropia differente dal primo punto al terzo punto. Nel primo punto sono sano ma coglione. Nel terzo punto sono tornato sano perché ho capito chi sono. Ma cosa serve, secondo lei, questo processo? Serve perché potremmo farci la domanda in un modo contrario. Cosa succederebbe senza? Cosa succederebbe senza? Ecco, non succederebbe niente. Nell'istante in cui dico non succede niente, siccome nel succedere c'è il fare e nel fare c'è l'esistenza, se io non faccio questo percorso non esisto. Cioè io so di esistere solo perché so chi sono, altrimenti non so di esistere. Il non sapere di esistere equivale al non esistere. Quindi in questo contesto la coscienza, che per caso si è divisa in due nel primo istante, perché non poteva fare altro che fare questo, perché una cosa sola non ha altre possibilità da un punto di vista geometrico che non dividersi in due, che è la cosa più semplice, dando origine alla dualità, pensate che l'universo è fatto così. Le cellule si dividono in due, le reazioni chimiche sono l'urto fra due molecole. No, fra tre. Non esiste una reazione fra tre molecole. Non esiste. Tutto è duale. Questo accade proprio perché l'universo è, possiamo descriverlo come un ologramma frattalico e il frattale prevede che tutto l'universo, che è un grosso mattone, sia fatto di mattoncini piccoli piccoli, tutti uguali. Quindi nel grande e nel piccolo c'è la stessa visione delle cose. Praticamente studiare un fotone o studiare tutto l'universo è per molti fisici la stessa identica cosa. Quindi il mattoncino piccolo e il fotone con cui è fatto tutto l'universo, l'universo grande, ci permette di capire che l'universo è un frattale. Cioè è fatto con pezzettini piccoli che montati tutti insieme ci danno un pezzo grande che è uguale al pezzettino piccolo. Ecco, in questo contesto tutto ciò ha un senso nel senso che se la coscienza non si divideva noi non eravamo qui a discuterne e il problema non si poneva. Quello che lei chiama processo di malattia mi ricorda molto il momento attuale. Quindi una separazione a tutti i livelli. Assolutamente. Su qualunque cosa. Ha senso questo. E io ho sempre avuto un'idea. Cioè nel senso questo non può che essere un processo che potrà portare a capire quali sono gli errori che stiamo facendo per evitarli in un futuro. Sì, sì. Allora, premesso che io non li chiamerei errori perché nessuno sbaglia. Nell'universo duale noi crediamo che ci siano gli errori. E i percorsi giusti e i percorsi sbagliati. È duale. In realtà ci sono solo percorsi. Percorsi come non ci sono le idee di sinistra, le idee di destra, come ci vogliono far credere, ma ci sono solo le idee. Secondo lei come facciamo a considerare, che ne so, la bomba atomica su Hiroshima una cosa che non è un errore? Il problema non è un errore, è un evento. Questo evento, dopo che abbiamo scelto che accadesse, ci ha permesso di trarre delle conclusioni, dei risultati, che noi non avremmo potuto ottenere non avremmo potuto ottenere se questo evento non fosse accaduto. Quindi, se noi vediamo l'evento come una probabilità di informazione, direbbe il teorema di Shannon, un signore che ha studiato queste cose da un punto di vista matematico, l'evento non ha significato considerarlo positivo o negativo, è un evento. C'è una serie di dati. L'evento positivo o l'evento negativo? Però lo stesso nel suo libro Il mondo felice descrive un mondo anti-entropico. Sì, lo ridico in un altro modo. Un evento, per esempio, come la Seconda Guerra Mondiale, uno potrebbe dire ma la guerra è una guerra, certo, ma la Seconda Guerra Mondiale ha portato in una scala duale tutta una serie di eventi che vengono identificati come negativi, ma tutta una serie di eventi che nella stessa scala vengono identificati come positivi. Che ne so, la ripercussione sulla scienza chimica che ha fatto il mondo della Germania. Internet. Internet. Un'evoluzione del pensiero stesso. La Costituzione italiana. Da quel punto di vista, la guerra, qualcuno ha detto, è stata un bene necessario. Tanto è vero che sempre in un mondo duale non ci dimentichiamo che grosse potenze come il Vaticano pensa che le guerre siano brutte e cattive, ma poi ci sono le guerre sante che sono buone. Oppure in un mondo come l'America del Nord ci sono le guerre che sono cattive, però ci sono anche le guerre giuste come quelle con Saddam Hussein. Ma questo è solo un problema di visione della realtà duale. Le guerre ci sono solo perché noi, nell'universo che abbiamo creato, abbiamo scelto di percorrere in quel istante, in quel momento, quel tipo di percorso. È una scelta che noi abbiamo fatto. E la scelta non è né positiva né negativa. In questo contesto, ciò che succedeva nelle civiltà antiche, primordiali, dove c'era una idea di, sicuramente, questo può essere vero, di unificazione maggiore di quella che abbiamo ora, rispecchia esattamente, in modo entropico e frattalico, la vita di un bambino piccolo. Il bambino piccolo, nella sua vita, poi diventa grande, poi diventa vecchio, ripercorre esattamente lo stesso percorso delle società antiche che sono diventate moderne e che diventeranno future. Perché? Il bambino piccolo si trova con la sua coscienza, la sua anima, la sua mente e il suo spirito, sono separati, incastrati in un corpo. Lui non si ricorda assolutamente chi è, ma la cosa più vicina a quello che era prima era l'integrazione totale. Il bambino, infatti, è egoico totalmente. Lui crede di essere l'unica cosa che c'è in questo universo. E noi diciamo, ma poi il suo pensiero evolverà e comprenderà che ci sono gli altri. Sì, ma per tornare a essere unico alla fine. Quindi il bambino è unico, crede di essere l'unica cosa a cui tutto il mondo circola intorno ed è un pensiero totalmente egoico. Che non è il pensiero unico che ci ha alla fine, perché quello è un pensiero cosciente. Che differenza c'è tra l'egoico e il cosciente, no? Bisogna passare attraverso la vita, attraverso la vita del bambino che diventa vecchio, attraverso l'evoluzione delle società nel tempo. È lo stesso. Che differenza c'è tra l'egoico e il consapevole? Tutti e due fanno l'unica cosa che possono fare. Fare tutto per se stessi. Solo che l'egoico crede di farlo per gli altri. Il cosciente sa che fa solo per se stesso. E come? Ma allora quando si deve aiutare la vecchietta ad attraversare la strada l'egoico lo fa perché dice dopo così vado in paradiso. Quindi non vuole aiutare la vecchietta vuole andare in paradiso. Il cosciente sa che non deve aiutare nessuno perché tutti devono fare l'esperienza. Se io aiuto qualcuno ad avvitare come ho sempre detto tante volte una lampadina tutte le volte che a questo tizio gli si fulmina la lampadina mi chiamerà perché vorrà che io lo aiuti ad avvitare la lampadina a cambiargli la lampadina. Così io in realtà gli sto impedendo di acquisire la consapevolezza di avvitare le lampadine. Lui è venuto su questo pianeta per acquisire la consapevolezza. Io non non lo posso aiutare deve fare da solo perché se lo aiuto faccio lo spregio più grande che gli posso fare. Lo sto aiutando quindi gli sto bloccando il processo di acquisizione di consapevolezza. Il consapevole sa che tutto quello che fa lo fa per sé perché gli altri sono sempre lui. L'egoico pensa che tutto quello che fa per gli altri gli tornerà indietro come una ricompensa e allora no. Io voglio essere consapevole ma sono partito da bambino piccolo egoico. Il bambino piccolo all'età di 3-4 anni comincia a capire che ci sono anche gli altri comincia a capire che c'è la dualità si fa accompagnare dal fratellino piccolo nella sua stanza perché deve attraversare il corridoio buio prima no prima lo attraversava il corridoio buio non aveva paura di nessuno perché c'è solo lui è egoico al massimo. Noi dobbiamo passare attraverso il processo di acquisizione di consapevolezza cioè vivere la separazione nella paura perché la paura è uno strumento che misura la separazione per poi capire che possiamo tornare ad attraversare il corridoio buio perché non c'è nessuno che ci farà del male perché noi siamo l'unica cosa che esiste tranne gli alieni. Gli alieni sono quella parte di noi che ci serve a comprendere che noi torneremo a essere una cosa sola. L'alieno non deve far paura l'alieno ne deve avere ne deve avere compassione poverino l'alieno ti fa del male solo perché tu glielo permetti inconsapevolmente perché quando noi abbiamo compreso che c'erano gli alieni abbiamo messo in atto anche un processo di acquisizione di consapevolezza per cui il soggetto che ha capito tutto dall'alieno non viene più preso perché lo ferma con la propria consapevolezza la tecnologia dell'alieno a noi ci fa un baffo se te hai coscienza. Ecco c'è un aspetto fondamentale io dico delle cose che possono apparire come qualsiasi altro relatore che dica una cosa questa cosa può apparire come primo step vera o falsa credibile o incredibile di solito sostanzialmente i relatori soprattutto quelli nel mondo scientifico si preoccupano di far vedere che quello che dicono è ben documentato nella letteratura scientifica e questo è sicuramente un ottimo approccio non basta se io dico una cosa in cui credo fondamentalmente siccome io la credo per me è così per me è vera perché non esiste il vero e il falso che sono concetti duali esiste il fatto che se io credo che una cosa sia vera ci credo e te la dico te la dico nel modo tale per cui questa io non la ritengo una bugia l'interlocutore inconsapevolmente siccome siamo una coscienza unica non se ne accorge ma se rende conto del fatto che tu gli stia dicendo una fesseria lo stai prendendo per i fondelli oppure gli stai dicendo quello in cui tu credi realmente la gente si accorge di questo fatto basta seguire un comizio politico per rendersi conto dentro il tuo cosciente che quel politico sta in realtà dicendo una cosa in cui non crede si vede benissimo e quindi se io non sono credibile in quello che dico sempre da un punto di vista statistico ovviamente perché ci sarà sempre qualcuno a cui non piacerà quello che dico se io non sono credibile vuol dire che dentro di me c'è qualcosa che non va che io non ho capito quindi io non ho la paura di dire una menzogna o di dire qualche cosa che è sicuramente sbagliato quello che mi preoccupa è vedere se le persone credono in quello che dico è credibile quello che dico oppure no può essere stranissimo può essere incredibile ma vero tra la credibilità e la realtà non c'è nessuna relazione una cosa può essere totalmente incredibile ma assolutamente vera e viceversa secondo lei in tutto questo discorso diciamo ponendo le basi su tutti questi elementi che ha dato lei quelli che oggi chiamiamo come il fenomeno che oggi chiamiamo cambiamento climatico come si incastra in questa in questa storia e anche se risulta difficile comprenderlo tutto quello che ci accade durante la giornata tutto dipende semplicemente da noi perché noi lo abbiamo creato quindi non è un caso che io mi incontri con il signor Rossi e faccia con il signor Rossi oggi questo discorso e non l'abbia fatto ieri o domani perché io ho bisogno di creare una situation comedy in cui il signor Rossi con la sua realtà esterna mi dimostri qualcosa che a me serve in questo contesto tutto ciò che accade nel mondo è qualche cosa che l'umanità intera sta inconsapevolmente producendo esempio ci sono i tifoni le mareggiate i terremoti cioè c'è uno stato di instabilità planetaria che ci fa temere dall'oggi al domani che qualche cosa di apocalittico colpisca questo pianeta e in effetti qualche cosa di apocalittico sta piano piano accadendo cioè lo vediamo con i cambiamenti climatici che non sono più quelli di una volta a riflesso siccome noi siamo i creatori dell'universo questo lo stiamo creando noi perché perché non ci rendiamo conto del disagio interno che la società moderna sta vivendo in questo momento e abbiamo bisogno di un allarme esterno che ci dica no le cose così non vanno non bisogna vivere così bisogna vivere in un altro modo cioè con più armonia e allora l'aspetto che noi viviamo di disarmonia interna viene automaticamente estroiettato e ributtato addosso a noi a specchio sotto forma di disastri naturali quindi noi stiamo sviluppando quelle manifestazioni che palesino il fatto che abbiamo una carenza a livello coscienziale di consapevolezza esattamente e il concetto fondamentale che io credo di aver capito è che noi abbiamo fatto tutte le rivoluzioni possibili immaginabili abbiamo fatto la rivoluzione storica la rivoluzione culturale la rivoluzione militare la rivoluzione economica informatica benissimo l'unica rivoluzione che non abbiamo ancora fatto perché le altre non hanno funzionato è la rivoluzione coscienziale cioè costruire dentro di noi quel matrimonio alchemico tra la parte animica e la parte spirituale cioè tra la nostra parte femminile e la nostra parte maschile direbbe lo psicoanalista di turno per cui dentro abbiamo acquisito armonia nell'istante in cui noi torniamo a essere chi eravamo una volta la coscienza integrata ma questa volta consapevole automaticamente fuori creeremo un mondo coerente con il noi dentro quindi un mondo armonico cosa vuol dire questo che non c'è più il tempo di fare i girotondini davanti a palazzo madama per far credere al governo che ha fatto una cosa giusta o una cosa sbagliata prima fatti la rivoluzione dentro prima acquisisci consapevolezza di te poi vedrai che il mondo non c'è bisogno di manifestazione di piazza va avanti andrà si correggerà da solo e allora siamo arrivati al punto diciamo al punto più importante perché è la parte che sta studiando adesso che cos'è l'Ibideon 432 432 hertz ecco qui nasceva l'esigenza che io avevo quando mi sono iscritto all'università quando studiavo tanti anni fa il problema alienologico cioè gli alieni cosa venivano a che fare prodotto da cui siamo partiti oggi ma che ci porta al punto numero 3 cioè a tornare alle nostre origini lì avevo la necessità di andare dagli scienziati e spiegargli oppure loro venivano da me mi chiedevano e io dovevo parlare il loro linguaggio che era un linguaggio matematico quindi dovevo fargli capire che l'universo era fatto in un certo modo per certe ragioni ora quello che ho capito ora che quel sistema andava bene solo a metà l'altra metà era costruita dal fatto che io dovevo fare un discorso di natura sensibile cioè non più un discorso basato sul lobo sinistro io faccio il ricercatore scientifico c'ho una visione maschile dell'universo in cui tutto è categorizzabile e categorizzato la parte femminile non vuole mai essere categorizzata vuole fare un discorso di sensazione secondo me 2 più 2 potrebbe fare 4 mentre il lobo sinistro dice l'emisfero sinistro 2 più 2 fa 4 ci sono da una parte delle certezze e dall'altra parte delle sensazioni e io ho provato in questi anni a fare anche il discorso sensibile di sensazione come dicevo prima dire agli altri guardate che le cose stanno così senza bisogno di fare una dimostrazione matematica perché l'altro lo avrebbe sentito dentro che le cose erano così giungo ora alla fine al terzo punto dell'evoluzione dicendo no ci vogliono tutti e due i discorsi quelli del lobo destro e quelli del lobo sinistro e che cosa ho fatto ho scritto una serie di articoli ho fatto una serie di ricerche per cui si dimostra che l'idea per esempio di suonare la musica a 432 Hz con il la quinto a 432 Hz e ti dà una sensazione di armonia interna ma come questo è un discorso nuegiano si potrebbe dire dove vengono fuori questi numeri ma chi se ne frega e allora ho dovuto dimostrare con delle formule matematiche con degli algoritmi precisi che l'universo se è un frattale ed è un ologramma questo frattale olografico ha come indice di complessità un numero che si chiama D maiuscolo uguale proprio a 4.32 ma che strano come mai l'indice di frattalità dell'universo ha lo stesso numero con cui in qualche modo si suona in modo armonico e si suona in modo armonico a 4.32 perché 4.32 è proprio il numero con cui la complessità dell'universo da noi stessi è stato fatto quindi inconsapevolmente quando sentiamo una musica a 432 Hz ci sembra di essere tornati a casa da una parte c'è la sensibilità del lobo destro dall'altra parte c'erano gli algoritmi del lobo sinistro non l'aveva mai fatto nessuno mettere comprendere come se si usano i logaritmi in base 2 perché l'universo è duale non per un caso le note musicali di un pianoforte sostanzialmente calcolate da Pitagora avevano ragione di essere in realtà non è 432 ma è 431.8588 Hz che sono esattamente la frequenza con cui l'universo in qualche modo si può descrivere da un punto di vista frequenziale era corretto quindi che la tua sensibilità l'universo quindi anche tutti noi certamente perché noi siamo l'universo e noi vibriamo a 432 431.85 non lo posso dire così perché noi vibriamo ad una serie di frequenze come tutto come diceva De Broglie De Broglie era un fisico che diceva quando un corpo si muove alla sua massa può essere associata a una frequenza e la sua equazione è seno di ωt più fi lo diceva lui bene queste frequenze hanno una caratteristica fondamentale siccome noi siamo in un frattale noi siamo fatti di piccoli pezzettini che vibrano tutti alla stessa frequenza dando origine a overtones e a sottotoni che però dipendono tutti da quella frequenza lì ecco 432 è una delle frequenze importanti a cui vibra tutto l'universo non a caso lo dico proprio in modo molto semplice se noi dividiamo 432 per pi greco otteniamo lo stesso risultato che dividere 360 diviso il quadrato della sezione aurea quindi si capisce chiaramente che 360 gradi che descrivono tutto l'universo in modo sessagesimale sono legati alla sezione aurea a pi greco e a 432 lei ha trovato altre correlazioni tra questi valori universali diciamo sì ci sono moltissime correlazioni che possono essere presi in esame e essere correlate con l'idea della fisica che descrive Planck con l'entropia di Planck Planck sa perfettamente che ci sono degli oggetti nell'universo che sono gli oggetti più piccoli di tutti questi oggetti l'oggetto più piccolo di Planck avrà una superficie di Planck che guarda caso è un numero estremamente simile al quadrato della sezione aurea probabilmente è il quadrato della sezione aurea perché quando si va a calcolare i numeri talmente piccoli un piccolo numero la terza cifra dopo la virgola 10 alla meno 33 centimetri 10 alla meno 44 secondi sono le unità di Planck quindi mi sa proprio che è veramente il quadrato della sezione aurea l'area di Planck ma questa area di Planck viene messa in relazione con quindi la sezione aurea oppure c'è il concetto di entanglement l'entanglement è quel fenomeno fisico misterioso che la fisica che non è più neanche tanto misterioso ora e la fisica quantistica dice che due particelle per esempio due fotoni che sono a distanza intergalattica tra di loro e sono collegati tra di loro in qualche modo se al primo fotone gli pesti i piedi il secondo sente il dolore subito immediatamente sono collegati tra di loro in qualche modo ciò accade perché c'è una probabilità di entropia dicono i fisici quantistici e c'è un signore che si chiama Ardy che ha calcolato l'entropia di entanglement di Ardy si chiama così che guarda caso è uguale alla sezione aurea elevata alla quinta si comprende come tutti quei numeri che descrivono l'universo in modo quantistico secondo per esempio la teoria che si chiama E-Infinity Theory sono tutti i numeri che dipendono da pi greco e dalla sezione aurea e i numeri delle videon cioè dell'idea che come l'universo è stato costruito cioè su un'asse dell'energia un'asse dello spazio e un'asse del tempo con dei numeri precisi che sono gli stessi numeri di Ardy gli stessi numeri della sezione aurea gli stessi numeri se vogliamo tirati fuori da quella poco consapevole new age americana degli anni 50 sono gli stessi numeri che costituiscono che costituiscono l'universo e non poteva che essere così perché la neurofisiologia moderna ha scoperto che per esempio i neuroni del cervello sono a distanze che sono multipli di pi greco quindi pi greco e la sezione aurea sono sostanzialmente i due numeri che regolano 432 sono legati al 432 e al 360 che è l'angolo giro sostanzialmente tutto è calcolato su questi numeri il DNA il DNA ha delle misure di lunghezza e di larghezza che sono esattamente la sezione aurea quindi perché tutto è un frattale quindi una volta che uno ha capito l'equazione del frattale ha capito come è fatto l'universo e non è vero che l'universo è estremamente complicato l'universo è complicato perché ci appare tale perché noi non ne abbiamo consapevolezza l'equazione dell'universo è un frattale che sicuramente è complicatissimo ma mano a mano che noi lo comprendiamo la formula diventa semplicissima la formula rimane sempre la stessa ma sono i nostri occhi e la nostra consapevolezza che la vede ora estremamente esplicabile nell'ultima conferenza ha fatto vedere un'immagine dell'universo spiaccicato su un piano praticamente il termine scientifico è spiaccicato giusto? sì spiaccicato assolutamente e ha evidenziato dei punti nell'universo dove ci sono delle anomalie particolari quindi già questo lei dice nella conferenza le ha fatto capire che non ci può essere stato un Big Bang altrimenti ci sarebbe un'unica frequenza di fondo uguale ovunque perché ci sarebbe stato un unico punto di innesco una totale isotropia e non una parziale anisotropia sì che pericolumoni portali vuol dire? vuol dire che il rumore di fondo dell'universo se uno avesse un orecchio sensibile sentirebbe rumore di fondo quindi un universo che vibra qualcosa che vibra che fa rumore siccome il Big Bang è capitato dappertutto in tutti i punti nello stesso istante dovrebbe essere un colore unico avere una temperatura unica invece ci sono dei buchi e questi buchi fanno capire che l'universo non è esploso in quel modo lì quindi non c'è stato il Big Bang sarà esploso in un altro modo ma il Big Bang non ci può essere e lei ha notato che ci sono due punti singolari ci sono due punti singolari sì in realtà non l'ho notato io ovviamente ma l'ha notato chi ha studiato la radiazione di fondo e tra questi c'è Penrose e Hawking ovviamente che sono stati Penrose è ancora vivo tuttora e Steve Hawking è morto l'anno scorso sostanzialmente due grandi colonne della fisica con il cervello un pochino più aperto a vedere che cosa sta succedendo bene sostanzialmente Penrose intravede in questi due punti quelli che sarebbero secondo lui secondo la sua ipotesi stati i due residui di due buchi neri che collassando tra di loro avrebbero prodotto tutto l'universo ecco in realtà queste due posizioni geometricamente rappresentano secondo il mio modello sono sovrapponibili al mio modello rappresentano quelli che sono il punto della materia è il punto dell'antimateria da cui materia e antimateria sarebbero sgorgate sostanzialmente perché quindi diciamo i poli dell'universo i poli dell'universo certo perché se è vero che l'universo ha un piano spazio-temporale fisso non pieghevole come diceva la vecchia teoria di Einstein la piegatura dello spazio-tempo sembra assolutamente che invece l'universo sia spazio-temporalmente rigido ma modificabile sull'asse dell'energia le asse dell'energia positiva e negativa in qualche modo allungandosi e accorciandosi dando luogo quindi a questa vibrazione di fondo produrrebbero l'idea della massa che altrimenti sarebbe solo una cosa inesistente ma il nostro cervello che secondo il neurofisiologo Pribram e un altro neurofisiologo che è Coslin loro cosa dicono dicono che il nostro cervello è un lettore di ologrammi quindi noi vediamo delle cose che in realtà ci appaiono così ma non sono così l'universo sarebbe un piano spazio-temporale fisso dove l'energia vibra ecco questa energia che vibra vibra in alto e in basso rispetto a questo piano quindi dà origine a fotoni ed antifotoni che sono interconvertibili tra di loro cosa dice la fisica la fisica dice il fotone non ha un'antiparticella perché l'antiparticella del fotone è lo stesso fotone cosa hanno dicono altri 250 lavori scientifici pubblicati negli ultimi 4-5 anni che non è vero che il fotone è massivo perché cioè ha massa e quindi se ha una massa può avere anche un'antimassa cioè avere anche una sua antiparticella ecco il fotone e l'antifotone sono la rappresentazione delle videon cioè quel nome a cui io ho dato all'universo Evideon cosa vuol dire? reso evidente dal fare qualcosa se te stai fermo non si vede niente ma nell'istante in cui si alza e si abbassa l'asse delle energie ecco che come in una mappa di Google te vedi in tre dimensioni i grattacieli di New York funzionerebbe così ma questo ci dà l'idea proprio del 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 fatto che la materia e l'antimateria ahimè sarebbero uguali nell'universo solo che i conti non tornano perché la fisica non ha compreso delle cose fondamentali uno che forse ha intuito devo dire dai lavori a partire da dei brogli in giù cioè che il fotone ha una doppia identità scrivono così le riviste scientifiche nelle review e questa doppia identità forse questa doppia elicità questa doppia simmetria non si capisce bene 20-30 articoli che parlano della doppia identità del fotone in realtà si manifesta nel mondo virtuale con il fatto che il fotone non ha massa perché il fotone e l'antifotone che vibrano tra di loro e si interconvertono tra di loro muovendo l'asse dell'energia questa interconversione è talmente veloce da essere al di sotto dei tempi di Planck quindi al di sotto dei 10 al almeno 44 secondi immisurabile quello che noi vedremo è la media delle due cose cioè solo il piano spazio-temporale dove non essendoci l'asse dell'energia il fotone non avrebbe massa sa quando fa questo movimento si mi fa venire in mente una pulsazione fondamentalmente una pulsazione se proprio il mondo è fatto a 431.8588 Hz come mai scrivendo 1 diviso 2 moltiplicato la costante di Planck per la velocità della luce per 273.15 che è la temperatura assoluta o non viene 4.31855 per 10 alla meno 24 10 alla meno 24 è un numero che ci permette di capire in che scala stiamo lavorando ma perché proprio il 4 e 32? Lì si capisce che la costante di Planck la velocità della luce e la temperatura sono legati a diversi altri parametri tra cui l'entropia e sono la rappresentazione olografica dell'universo che quindi vibra che quindi vibra alle frequenze che abbiamo calcolato che sono multipli di 432. Le dico la verità ho capito cosa ha detto adesso ma non lo riesco a comprendere. Certo perché c'è una differenziazione fondamentale tra il capire e il comprendere io ho un libro davanti di chimica lo leggo capisco l'italiano capisco tutto chiudo il libro ma non lo so ripetere questo vuol dire che io ho capito il significato delle cose ma non sono ancora diventato quella cosa lì questa formula che deriva da tutta un'altra serie di logubazioni matematiche mi fa capire come le principali costanti dell'universo che sono la costante di Planck la velocità della luce e la temperatura assoluta e il numero 2 che non è un numero ma è una costante che indica che l'universo è duale che compare in tutte le formule della fisica quantistica solo in stretta relazione col 4.31855 in strettissima relazione non può essere un caso che il prodotto di questi numeri dia quel numero lì secondo lei perché io sono qui davanti a lei in questo momento? perché lei si sta specchiando con me e cioè le cose che le sto dicendo io le servono per acquisire quella consapevolezza su quella cosa che lei non ha capito e questo è il motivo per cui lei è davanti a me ovviamente ma perché io sono davanti a lei? per un motivo diverso che ognuno di noi a seguito della conversazione che abbiamo fatto secondo lei perché? cosa è emerso dentro di lei in questa conversazione? è un po' questa la domanda che le sto facendo diverse cose una delle cose è il fatto che mi sento abbastanza sicuro di quello che ho detto quindi me lo sono riascoltato nella mia stessa voce e gli discorsi mi vengono chiari quindi acquisisco fiducia che non ho detto delle stupidaggini e poi la consapevolezza che ci stiamo avvicinando a un istante a un momento storico in cui la gente piano piano comprenderà perché è giunto il momento che la comprensione non può più essere trascurata diciamo abbiamo raggiunto probabilmente il momento di non ritorno nel passato questi discorsi che sono sempre stati fatti in altri modi con altri linguaggi sono sempre stati ridimenticati anche divulgati con altri mezzi con altri mezzi tutto bene poi alla fine però te li dimentichi e li devi riscoprire ancora una volta passano due trecento anni e rivieni fuori lo stesso discorso magari scritto in moto matematico di quello che diceva il filosofo Bacone ai suoi tempi è la stessa cosa ma ora detta in un modo diverso la cosa importante non è tanto il linguaggio che Bacone poteva utilizzare ai suoi tempi e io qui utilizzo altro linguaggio perché ora non si parla più come si parlava prima ma prima ce lo siamo dimenticati e ce lo siamo dimenticati anche prima di Bacone tante volte ora io credo sia giunto il momento che non ce lo possiamo più dimenticare cioè siamo giunti al punto di non ritorno è come questo forse è anche il motivo per la quale le persone che la stanno ascoltando stanno ancora davanti a questo video è sicuramente perché se ciò accade io non ho fatto un semplice discorso alla gente un discorso vocale che conta per il 3% quello che conta è il 97% di metacomunicazione che la programmazione neurolinguistica dice arrivare molto più a fondo all'interno della persona che ascolta ma ci metto di più cioè ci metto una comunicazione coscienziale cioè per quanto possa essere impreciso il linguaggio che noi abbiamo utilizzato la coscienza parla in modo nascosto con parametri nascosti ma in modo archetipale quindi una formica capisce quello che dico e viceversa io posso capire il linguaggio della formica senza esserne consapevole se la gente rimane ad ascoltare dopo tanto tempo quello che sto dicendo è perché magari le orecchie si sono chiuse ma la coscienza è rimasta aperta e forse anche perché è un momento in cui bisogna ascoltare questo tipo di informazioni come stava dicendo prima i greci usavano tre tipi di tempo il tempo atmosferico il tempo cronologico cronosse il fato è il momento in cui le cose possono accadere perché prima anche se accadevano la coscienza non avrebbe permesso uno sviluppo ulteriore voleva aggiungere qualcosa a lei in generale? in generale in generale si potrebbe dire questo io non so se ho fatto un lavoro fatto bene o fatto male negli ultimi anni che mi è costato un sacco di fatica e che non so se rifarei cioè io ho la sensazione che avevo da dire queste cose avevo da studiarle avevo da capirle io per me e mi sono quindi imbattuto in questa realtà per esempio dei fenomeni di adduzione che ho voluto studiare proprio perché a specchio dovevo capire qualcosa nel contesto delle adduzioni io dovevo capire come funzionava la parte animica perché la parte animica che mi interessava comprendere era la mia sostanzialmente e ho usato quindi il fenomeno dell'adduzione perché lì veniva fuori veramente il bisogno della parte animica strumentalizzata utilizzata calpestata dalla parte maschile di questo universo che sostanzialmente è il potere potere su questo pianeta potere degli alieni e non solo degli alienati io non so se tutto questo è stato un punto di non ritorno però sono abbastanza contento da una parte di aver fatto questo tipo di lavoro che si conclude ora qualche altra conferenza ma tutto quello che dovevo dire l'ho detto quindi non c'è altro secondo me da scoprire dopo da una parte sono contento dall'altra parte sono un po' deluso e la mia coscienza me lo dice la delusione della illusione o la illusione della delusione sono deluso perché credevo che su questo pianeta la gente fosse un po' più sveglia e capisse più velocemente le cose e quindi mi devo assoggettare al fatto che ognuno ha i suoi tempi e questo a me importa perché siccome io sono anche l'altro noi io stesso non potrò comprendere bene come stanno le cose finché l'ultimo di noi di questo universo compreso l'alieno non avrà capito e noi pubblicheremo questo video proprio per questo motivo le stavo per fare questa domanda però mi ha già risposto secondo lei come mai solo lei è arrivato a queste conclusioni e intanto ancora prima di questa domanda lei in questo momento sta si sente di poter dire che sta dicendo la verità o sta dicendo ciò a cui è arrivato lei cioè la possiamo prendere questa come una lei la vorrebbe far passare come una verità assoluta o come delle conclusioni che però possono essere messe in discussione io credo che questa non sia una verità assoluta credo che ci si avvicini per almeno l'80% va anche detto che mano a mano che la coscienza aumenterà questa verità prenderà un'altra forma verrà descritta con un linguaggio migliore che non sarà più il linguaggio vocale ma il linguaggio archetipale però il nocciolo della questione secondo me è questo grazie a tutti